Buongiorno a tutti, oggi vediamo la prima parte del discorso Israele. Io sapete che mi ripeto spesso, ripetere Giove in alcuni casi, annoia in altri, spero che Giovi soprattutto, batto il chiodo su alcuni elementi, non posso trattare tutto quello che vorrei, dovrei, intenderei affrontare, dovremmo vederci, credetemi, una volta a settimana in un'annualità accademica, ma questo non per il gusto di fare i sapientoni, ma per la necessità di partire a ottobre-novembre, arrivare a maggio con un incontro della settimana, analizzando un'annualità di questione, anche perché avrete capito che questa storia che raccontiamo, contestualizzata, cioè non isolata da quelli che sono i tempi, le logiche, le altre storie che si accompagnano, richiama molti aspetti del passato ma anche del presente. Forse l'attenzione così accentuata su Israele, sui palestinesi, sul conflitto israelo-palestinese, anche se vi invito sempre a congiungere e disgiungere nel medesimo tempo le cose, per non farne un groviglio che rende del tutto incomprensibile le dinamiche e gli eventi non solo storici. Dico forse l'attenzione su queste cose qui è anche legata al fatto che in controluce possiamo leggere aspetti, vicende che non riguardano quel contesto, che non riguardano quelle collettività, ma che riguardano ad esempio le nostre storie, il nostro presente. E' un po', se vogliamo, l'effetto di amplificazione che la storia di minoranze, come si dice usando un gergo forbito, un po' iniziatico, dense, cioè minoranze piuttosto compatte, che hanno, come dire, dei legami forti, rimandano sulle maggioranze, sulla collettività più estesa, più ampia, che non appartiene a quelle minoranze, ma che segue con interesse, con passione, a volte anche con avversione, la storia delle minoranze medesime. Penso ancora alla straordinaria possenza, il riscontro che la letteratura israeliana negli ultimi 30 anni ha avuto, prima non era così, ve lo posso garantire, era misconosciuta, ma prima anche la produzione israeliana, non una produzione ebraica, ma una produzione israeliana, che è una cosa a sé stante, la letteratura era di molto più contenuta di quanto non sia avvenuta negli ultimi 30 o 40 anni, ebbene, dico, quella possenza lì, quella forza, quell'impatto anche editoriale, quindi aggiungiamo commerciale, oltre che culturale, è indice di quanto stiamo dicendo e stiamo facendo oggetto di riflessione. È un effetto specchio, io credo, no? Per questo a volte le passioni, le identificazioni o anche i rifiuti sono molto secchi e molto netti. E questo va tenuto in considerazione. Oggi, dicevo, affronterò in maniera, come avete visto, sì anche cronologizzata, ma per temi problematici la prima parte della storia dell'Israele, ricongiungendola ovviamente a quanto abbiamo già raccontato, abbiamo cercato di raccontare, sia pure in maniera sommaria. Vi faccio vedere un po' di immagini che arrivano da Arez. Arez è un quotidiano, per coloro che non lo conoscessero, israeliano, in lingua inglese. Potete tranquillamente navigare nel suo sito. Spesso offre delle opportunità di riflessione, diciamo così, problematizzante, rispetto non solo alle questioni israeliane, ma alle questioni medio orientali e più in generale, e più in generale alle questioni legate al nostro presente e offre anche, la cosa che a noi interessa di più, un apparato iconografico che cercandolo ci dà immagini dei trascorsi che noi stiamo indagando. Ad esempio, questa è un'immagine di Haifa nel 1937, come vedete già un'area industriale, un porto particolarmente sviluppato, era, come vi raccontavo, l'altro scorso uno dei punti di accesso per gli immigrati, sia per quelli regolari, cioè che ottenevano il visto da parte dell'autorità mandataria, dei britannici, sia per quelli irregolari, che ovviamente non ingressavano attraverso i gate riconosciuti, legali, ma sulle spiagge cercavano di sbarcare e poi di entrare all'interno di quella che era ancora, fino al 1948, la palestina mandataria. Vi dico da subito, così già un tema che riusciamo in qualche modo a mettere a fuoco, che il fenomeno dell'immigrazione irregolare, trattino illegale, irregolare perché non rispondente ai parametri, allora come oggi, della normale immigrazione con tanto divisa, di visto, illegale perché non voluta o rifiutata da, in questo caso qui, la potenza mandataria, tra il 1945 e il 1948, fino alla nascita dello Stato di Israele, la nascita formale, il 14 maggio del 1948, impiegò un numero consistente di risorse, quella che è conosciuta come aliat bet, ormai dovreste sapere aliat, vuol dire ascesa in ebraico, ma indica migrazione, la migrazione B, chiamiamola così per intenderci, Bricà, in sostanza di migrazione non legale, fu un fenomeno che in qualche modo fece sì che una parte del movimento sionista, che a quel punto aveva conosciuto una lunga evoluzione dopo 60 anni di storia all'interno di quelle terre lì, fosse impiegato e impegnato in un'attività collaterale, ma anche un'attività, diciamo così, di supporto, assistenza e di sostegno nei confronti di quelle che in prevalenza, nella quasi totalità dei casi, almeno fino al 1948, sono sopravvissuti ai campi di concentramento. La distinzione, se ricordo bene, tra campi di concentramento e campi di sterminio, sia pure in maniera molto sommaria, a cui l'abbiamo forse già evocata, di sopravvissuti ai campi di sterminio è pressoché quasi nulla, il nome stesso lo dice molto chiaramente, erano luoghi dove si entrava e non si usciva, qualcuno occasionalmente, per pura circostanza, per puro caso. Di sopravvissuti ai campi di concentramento, senz'altro di più, perché la morte era il risultato finale, però è non meno vero che il sistema concentrazionario, come dice la parola stessa, teneva le persone dentro finché non le aveva distrutte. Non entriamo nella logica di queste due istituzioni cosiddette totali, ne evochiamo però solo il fatto perché c'è un gran numero di sopravvissuti ai campi di concentramento, scusate, che non vuol dire che rispetto ai tanti deportati la percentuale di sopravvissuti fosse forte, vuol dire che moltissimi furono deportati e quindi il numero di sopravvissuti è tale da far sì che questa cosa impegnasse non l'Europa e le istituzioni europee ad ora inesistenti, ma impegnasse lo scenario europeo in quanto tale. Tenete conto che nel secondo dopoguerra, l'Europa per cui la conosciamo noi, l'Europa è tutto centro-settentrionale, dall'Ucraina fino per molti aspetti all'Atlantico, era un continente di profughi, molti profughi, molte storie di sradicamento. Tenete conto di questo aspetto perché per capire certe dinamiche che noi non affrontiamo nello specifico del conflitto israelo-palestinese, soprattutto nel momento in cui c'è l'esilio di una parte della popolazione araba, autoctona, cadarsi dentro la logica di quegli anni lì, dove la profuganza era un fatto del tutto, non dico ovvio, ma comune e indispensabile perché aiuta, per così dire, a capire, non a giustificare, a capire la sostanziale indifferenza di governo rispetto a quanto avveniva. Se voi foste stati sopravvissuti a un campo di concentramento in quegli anni, non avreste fatto caldo né freddo a nessuno. In genere, nel caso di sopravvissuti a deportazione raziale, a occuparsi del loro destino sono per l'appunto quei giovani, meno giovani che appartengono al movimento sionista, che vengono inviati o che si attivano attraverso la rete delle comunità ebraiche presente in Europa, soprattutto nell'Europa meridionale, dove erano sopravvissute l'anemia di ricostruzione, più la seconda che non la prima, perché le comunità erano pressoché state quasi tutte azzerate, per buona parte quantomeno, e che proprio nella migrazione irregolare, illegale, di contro la volontà della potenza mandataria britannica, trovano, diciamo così, anche una nuova identità militante. Ad esempio la vicenda della brigata ebraica può essere letta in molti modi. Alcuni di voi avranno sentito parlare di questa unità che era aggregata all'esercito britannico, che era composta di ebrei trattino palestinesi, ricordate sempre che sui termini voglio virgolettare per non creare confusioni o contrapposizioni lessicali inutili. Un ruolo importante della brigata ebraica è il concorso di una parte dei suoi membri alle attività legate per l'Aliabet, che tra il 1945 e il 1948 ha un impatto rilevante soprattutto per il movimento sionista, che a questo punto non è soltanto più quello che ci siamo già diffusamente e ripetutamente raccontati, non è solo più quell'impresa politica, culturale, ideologica, sociale, che ha creato il nuovo ISHUV, i termini spero che vi siano a questo punto sufficientemente chiari, il nuovo insediamento ebraico nella paestina ottomana prima e in quella mandataria poi, ma diventa anche qualcosa d'altro. Il movimento sionista diventa anche qualcosa d'altro perché è impegnato anche in un processo di ricostruzione, chiamiamolo così, che va al di là della dimensione strettamente nazionale che oggi prendiamo in considerazione e che riguarda anche poi l'Europa. Quella cosa lì non passerà per così dire in vano, non sarà solo un aiuto nei confronti dei cori regionali che avevano perso, perso che tutto, 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 perso parenti, perso beni, perso risorse, a volte perso cittadinanza, perso la fiducia, perso la prospettiva per il futuro, cioè trovarsi nella condizione di aver perso 50, 60, 70, 80, 90, 100 parenti e non poter neanche poi ritornare indietro perché c'erano vincoli di ogni genere e tipo, allora più di quanto non ce ne siano oggi, è un'esperienza che bisogna fare per capire quali erano poi le motivazioni, gli atteggiamenti e le condotte di chi appunto sopravvissuto a questa condizione reagiva in un modo piuttosto che in un altro. Mi perdone lì in avanti, ma perché l'opportunità dell'industria della mandatoria a poter entrare in maniera regolare o piuttosto che legale le persone in un contesto di che uomo fa? Ho compreso, la domanda è molto pertinente, fra l'altro qui vedete un'altra foto, non sto a commentarle una per una, ma insomma fa da coreografia quanto stiamo raccontando, entra già dentro i temi che affrontiamo oggi. Le motivazioni potevano essere molteplici, primo punto, l'Inghilterra, forse dovremmo dire il Regno Unito, l'esercito di sua maestà, il Regno Unito si era avvalsa del concorso, del contributo di una parte, non di tutta, nel movimento sionista, quella che poi sarebbe risultata per così dire vincitrice, abbiamo visto che ci sono diverse componenti, la parte, chiamiamola per comodità, ripeto sempre, laburista, socialdemocratica di radice europea e est-europea, middle europea ed est-europea, si era avvalsa del contributo non solo militare, ma del contributo anche di intelligence che questo movimento aveva offerto nel momento in cui l'Inghilterra aveva dovuto sopportare la parte più cospicua, per così dire, insieme ad unione sovietica sull'altro versante e sull'altro fronte, dei colpi a tenaglia offerti dalla Germania. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che la politica inglese in quegli anni lì era una politica che era molto attenta agli equilibri nei rapporti con gli arabi, però le leadership parabe non tutte, una parte di esse, non tutte, erano state identificate come leadership sostanzialmente ostili o comunque non prossime agli interessi del fronte che si stava coagulando contro le potenze dell'asse. Quindi la piccola componente sionista, parliamo di 4, 5, o 600 mila uomini presenti nella Palestina mandataria, era una risorsa da questo punto di vista, una risorsa contenuta alla quale non doveva essere dato troppo spazio. I britannici avevano assunto da molto tempo un atteggiamento sostanzialmente perplesso prima e poi sostanzialmente avverso agli sviluppi che il movimento sionista stava dando alla sua impresa perché in ciò vedevano comunque minacciati i rapporti con il mondo arabo. È una questione che si riproporrà anche per quelle potenze che di lì a non molto sarebbero subentrate ai britannici perché il 45 segna la conclusione, sì ci saranno altre vicende, arriveremo al 56 con la vicenda di Suez eccetera, ma segna di fatto l'avvio quantomeno alla conclusione di quella che era la più o meno gloriosa storia dell'impero coloniale britannico. I britannici lo sanno benissimo da questo punto di vista, non hanno neanche più troppo interesse a continuare a controllare i territori palestinesi perché la vera perdita che si sta ponendo in prospettiva è quella delle Indie come venivano ancora chiamate e la Palestina era funzionale soprattutto anche se non esclusivamente a questo tipo di logica oltre che alla logica del rapporto controllo con il mondo arabo, cioè c'è una realtà geopolitica in via di trasformazione e in via di mutamento. L'ostilità nei confronti del movimento sionista è animata da diversi fattori e da diversi componenti. Il fatto è che il movimento sionista viene visto essenzialmente come uno delle componenti del processo di decolonizzazione. Contrariamente a un luogo comune che attribuisce al movimento sionista un'identità coloniale, in realtà il movimento sionista esprime le sue potenzialità e le sue ragioni all'interno dei processi di decolonizzazione. Punto e a capo. È un ribaltamento di prospettive rispetto a un approccio geologico che dice eh no, i sionisti furono impiantati lì perché dovevano essere la longa mano del colonialismo prima britannico e poi di quello americano. Non è così, non è così. È nei processi di decolonizzazione che l'impresa, l'ipotesi che l'issue diventasse da comunità tra virgolette civile, politica, stato nazionale che prende piede. Ma appunto ci vogliono le condizioni oggettive come si dice, non solo quelle soggettive, quella volontà o quel disegno politico, quella intenzionalità che abbiamo messo in rilievo negli incontri trascorsi. Quindi i britannici vivono il rapporto col movimento sionista nel momento in cui la vicenda bellica si è conclusa come qualcosa che procura l'orticaria. Tenete conto anche che il movimento sionista, spero di essere stato nei passati incontri sufficientemente chiaro, era articolato al suo interno. Una componente maggioritaria faceva prevalere comunque calcoli di ordine diplomatico, cioè la politica coincideva anche con la diplomazia e voleva dire che i britannici se ne andranno, lo si sa, poi a un certo punto all'inizio del 1947 la volontà inglese di Londra di cessare il mandato viene definita una volta per sempre, viene proclamata con la internazionalizzazione della questione del destino di quei territori. I britannici se ne andranno però il modo in cui se ne andranno farà anche la differenza, diceva questa componente nel mondo sionista. Si possono stare cortesemente sulle scatole, però punto uno, se andiamo a un conflitto con loro risultiamo perdenti. Non c'era un esercito all'epoca, c'era la ganà che era un insieme di forze che partivano dai kibbutzim, ricordate, dalle organizzazioni agricole, regolari, autodifesa che poi si era impiantata anche a livello urbano, laddove una società ebraica urbana nel nuovo Isshuva a partire dagli anni 10 del 900 inizia a svilupparsi e poi prende sostanza con l'arrivo degli ebrei dell'Europa centrale, che non vanno a fare attività agricola ma vanno a fare attività legata al mondo urbano, al mondo metropolitano di allora, in quei contesti lì, eccetera, eccetera, eccetera. Però in buona sostanza le forze combattenti, chiamiamole ancora per definire dei distinguo periodizzanti sioniste, sono una misura molto limitata, non abbiamo a che fare con un popolo in armi. Peraltro aggiungo anche un altro aspetto, rispetto alle suggestioni allora ancora vigenti relative al popolo in armi, come alcuni esponenti del sionismo, chiamiamolo così, più radicale, soprattutto a sinistra, vanno ipotizzando da dove si dice questo è l'inizio di un processo rivoluzionario che coinvolgerà l'intero Medio Oriente. Noi avremo, come diciamo, un'avanguardia etnico-sociale di una trasformazione che coinvolgerà l'intero mondo arabo. Rispetto a questo tipo di suggestione la risposta delle classi dirigenti sioniste a partire, cito Ben Gurion perché è una figura di riferimento ma non c'è solo lui, Moshe Sharet e altri ancora. La risposta è molto chiara e molto netta, no grazie, noi abbiamo un obiettivo, prendiamo quello che possiamo ottenere. E prendere quello che possiamo ottenere vuol dire, in omaggio al realismo politico, due o tre cosette molto chiare. Uno, stabilire dei rapporti di forza che non ci vedano perdenti a priori. La paura di essere sopraffatti è fortissima in quegli anni lì, nulla è chiaro, nulla men che meno è deciso. Due, mantenere, ma a grado tutto, dei rapporti diplomatici, dei rapporti sufficientemente accettabili con coloro che se ne stanno andando ma che comunque lasceranno una situazione di fatto con la quale noi dovremo confrontarci. Mi capite? È inutile che andiamo là a rompere le uova nel paniere agli inglesi, solleticando in loro una reazione aggressiva che incentiva l'indisponibilità che già esiste. Questo tipo di approccio, che è maggioritario, non è sostenuto da tutto il movimento sionista. Ad esempio la componente revisionista, vi ricordate che abbiamo fatto da quantomeno degli accenni, non ha questa posizione. Ritiene che nei confronti dei britannici il confronto debba trasformarsi in scontro. E le vicende che tra il 46, 47 e 48 si accompagnano, ad esempio l'attentato clamoroso all'hotel King David, che è il quartiere generale britannico e così via, sta dentro non solo una logica di contrapposizione armata nei confronti dei britannici, ma di un conflitto politico che c'è nel movimento sionista su come atteggiarsi rispetto a un mutamento in quello che è un periodo cruciale. Il sionismo maggioritario dice, attenzione che i britannici se ne vanno, se se ne vanno incaronniti ci lasciano dei pessimi regali, che esplodono poi a distanza di tempo. Un po' come abbandonare questo luogo lasciando una mina che poi esplode a distanza di uno, due o tre giorni, per fare un esempio. Punto due, attenzione che dobbiamo confrontarci con un mondo arabo che è comunque tendenzialmente ostile. Non tutto, non tutte le classi dirigenti lo erano necessariamente, però l'avversione è evidente e fra l'altro è stata fortemente incentivata negli anni della guerra con la compromissione di una parte dei gruppi dirigenti arabi con il nazifascismo, con le potenze dell'asse. C'è a questo punto un atteggiamento rigidamente antisemita su quello come dire non ci si schioda, non li schiodiamo in sostanza, perché è una contraposizione anche ideologica e comunque c'è poi un differenziale numerico che è incomparabile. Ora i britannici sono molto attenti a cercare di capire cosa sarà di loro nel momento in cui non potranno esercitare più un ruolo diretto, ma cercheranno di preservare sfere di influenza se non di egemonia su un territorio piuttosto che su altri. Fino al 1956 sarà così. Quindi l'ingresso degli ebrei chiunque essi fossero, torniamo a questi dati qua molto velocemente, l'ingresso degli ebrei chiunque essi fossero in terra di Palestina mandataria fino all'ospirare del mandato britannico che avviene nella notte del 14 maggio del 48 è regolato dalla politica dei libri bianchi, la politica dei libri bianchi, quattro, forse mi ripeto forse no, avendo anche altri corsi con altri gruppi non mi ricordo bene, allora scusatemi, quattro libri bianchi che succedono tra il 22, primo di essi è firmato da Churchill, ministro delle colonie, quattro libri bianchi che si accompagnano in vent'anni dicono ingressi calcolati secondo un certo criterio e regolati poi di volta in volta in base a tutta una serie di considerazioni di circostanze relative ai rapporti col mondo arabo, all'evoluzione del mondo arabo, alla ricerca, un problema che i britannici sono sempre posti, sopporranno poi anche gli americani e anche i sovietici, di interlocutori credibili nel mondo arabo, che è un problema grande, che è arrivato fino ad oggi per molti aspetti, e che determina poi il destino dei singoli movimenti nazionalisti in campo arabo, più o meno credibile, più o meno coerente con gli obiettivi che si date. Questo vale quindi fino alla nascita formale di Israele nella giornata del 14 maggio del 48. Tenete conto che Bricaria Abed vuol dire in sostanza tra il 46 e il 48, una sessantina circa di piroscafi, battelli di diverse dimensioni che imbarcano migliaia, o centinaia insomma, migliaia forse no, ma centinaia di profughi che cercano di entrare nella Palestina mandataria. La quasi totalità di questi battelli viene intercettata dai britannici che hanno il controllo del Mediterraneo, hanno il controllo dovuto delle coste, sanno benissimo come si muovono le cose. Chi viene letteralmente pescato dalle autorità britanniche, viene arrestato o comunque sia viene portato in stato di detenzione verso Cipro o verso altri luoghi di raccolta anche in Grecia eccetera, qualcosa che riecheggia elementi dell'oggi fatte ai debiti e differenze storiche, in una condizione di campi che allora venivano chiamati di internamento, viene deportato, si utilizza ancora questa parola, che soltanto poi nei decenni successivi assumerà quel tono sinistro e impronunciabile che per noi ha assunto, viene deportato. Questo è un fatto come dire decisivo, uno dirà vabbè allora scusatemi o ci scusi se il movimento sionista sapeva che le cose andavano così, ma perché proseguiva in questo tipo di attività che era chiaramente onerosa, cioè arrivava in prossimità delle coste della Palestina mandataria e poi arrivavano le truppe inglesi e catturavano una parte consistente di coloro che avrebbero voluto entrare e ingressare, punto uno. Punto due perché lo fa nei confronti sì di corregionari ma che rappresentano sopravvissuti, anche qui io vi dico contestualizzare sempre, provatevi a mettere nel panni di chi era sopravvissuto a un campo di concentramento, aveva perso tutti i suoi congiunti, non aveva voglia di andare a fare una guerra, proprio non ce l'aveva, aveva voglia di trovare un approdo dove rintanarsi nella stragrande maggioranza dei casi. Rispetto all'epica, all'eto sionista, come dire, del giovane, anche del meno giovane, combattente che si costruisce il suo destino, che ara la terra o che a questo punto anche vive nella città ma ormai, come dire, un ruolo sociale consolidato. Qui abbiamo a che fare con figure di vinti, che si sono salvati, sono stati salvati dal caso molto spesso, ma che non sono materiale umano, tra virgolette, permettetemi il termine d'espressione, che non vuole essere indecorosa, non sono materiale umano adatto per un confronto. Perché fanno questa cosa qua? Ma le motivazioni possono essere molteplici, ma dal punto di vista sionista, al di là dell'azione umanitaria, che pure è presente, vuol dire due o tre cose. Intanto rimotivare i propri ranghi, devi rimotivarli sempre, costantemente, nel senso che non puoi dar per acquisito nulla. È una logica questa, guardate, che è presente anche in Israele oggi, fatte le debite proporzioni e le debite differenze, che non sono da poco rispetto a quel passato. Non puoi considerarti sicuro mai a prescindere di nulla. Le cose possono repentinamente mutare e la coesione, e la coesione, allora tra corregionali, oggi tra connazionali, deve essere riformulata costantemente. È un passaggio importante questo. L'opera di salvataggio non è solo, ripeto, un'opera umanitaria allora. È un'opera in cui tu metti al lavoro i tuoi uomini e le tue donne, che partono dalla Palestina mandataria o che sono presenti già in Europa e che entrano a far parte, come posso dire, di un'opera collettiva dove aiutare gli altri, i propri simili, da questo punto di vista ha un significato fortemente politico, dal senso, come dire, di una militanza che a questo punto non è più quella dei decenni trascorsi, ma la militanza nelle nuove condizioni date di un'Europa e di un Mediterraneo che sta mutando. Il dato della consapevolezza da questo punto di vista, del fare qualcosa con un obiettivo molto preciso dove ciò che si ricava è il senso di reciprocità, è un fatto molto comune. È lo stesso motivo per cui, quantomeno ancora in tempi recenti, io ricordo i miei primi viaggi in Israele, come a me risalgono a diversi lustri fa, quando arrivavi subito qualcuno, prendevi un mezzo pubblico, qualcuno ti faceva qualche domanda spesso, ti chiedeva chi sei, cosa fai, eccetera. Era un modo, è un modo per controllare, come posso dire, il proprio spazio di esistenza, per interagire, per vivere in una dimensione, che all'epoca era sentita come particolarmente disprezzabile, per non vivere in una dimensione, scusate, uso una forma negativa, di individualismo che per l'epoca era impossibile. Devi tenere in movimento il gruppo politico, devi tenere, come dire, la società costantemente in pressione, anche perché le circostanze ti impongono di essere capaci, di cui hanno molto, di dare delle risposte a ciò che avverrà. Comunque vada, sarà una situazione difficile e precaria, una qualche forma di stabilizzazione in realtà, col mondo circostante, la si ha soltanto alla fine degli anni 70, con gli accordi di Camp David, precedentemente, all'irà poi delle fiammate belliche. Però le tensioni sono continuative. Noi studiamo la storia di Israele molto spesso, secondo me, in maniera univoca, attraverso la periodizzazione delle guerre, ovvero sia guerra di indipendenza, come viene chiamata dal punto di vista israeliano, 46, 47, 48, 49. Poi guerra di Suez, 56. Poi guerra del 67. Poi guerra del 73. Poi guerra del 73. guerra del Libano nell'82. E questa è una periodizzazione che può essere funzionale per stabilire delle separazioni, come anche delle continuità nel percorso storico. Ma se andate a vedere la storia di Israele e dei confini incerti, questione che la prossima volta affronteremo più di petto, perché rimanda anche ad oggi, vi renderete conto che uno voi avete a che fare da subito con confini che tali non sono, ma sono linee ammistiziali. Linee ammistiziali cosa vuol dire? Il fronte si è fermato lì e abbiamo sottoscritto un patto temporaneo in virtù del quale gli uni e gli altri sospendono le ostilità mantenendo uno stato di guerra. Lo stato di guerra non vuol dire che si faccia la guerra, vuol dire che si è ostili tra paesi confinanti in questo caso. Capite? Quindi la cosa non è data per assodata. Noi ragioniamo in temi di confini, già allora ragionavamo in temi di confini in quegli anni lì, dandoli per assodati nella misura in cui ne usciamo sconfitti da guerra guerra, paghiamo tributo con l'Istria e la Dalmazia, ci ridimensioniamo in una parte delle aree confinarie, però ci fermiamo a quello, col 47, sia pure come potenza perdente, ancorché non capaci di riconoscersi come tale, ma al grado alcuni come De Gasperi lo avessero detto molto chiaramente, riteniamo cessata la vicenda bellica. Nel caso invece del nascente Stato di Israele si formalizza una vicenda bellica che prosegue nel corso del tempo, che ha, vi dicevo, come scansioni questi elementi legati ai grandi eventi bellici, ma che è un prosieguo di atti di ostilità continui, ossessivi, maniacali, quei confini sono porosi, intanto non pensiate che per lungo tempo Israele possa controllare tutto il territorio che sta dentro le linee armistiziali, cioè devi affidare alla popolazione civile, in accordo con le nascenti, crescenti forze militari, il controllo di quel territorio, ed è una cosa non da poco, perché per noi la delega alle autorità di polizia, come in questo caso l'autorità alle forze armate è una delega pressoché totale, perché non percepiamo e non concepiamo il fatto che i nostri confini possano essere minacciati, ma lì i confini esistono come letteralmente una sorta di linea di divisione temporanea, scritta su alcune cartine e sancita dal controllo incerto di autorità internazionale, che dovrebbero fare giusta posizione e sovrapposizione e divisione tra le parti in contrasto. Ma negli anni 50 e negli anni 60 ha il stesso formarsi di un movimento nazionalista palestinese che cerca di assumere connotati come dire più cospicui, è legato da un lato al fenomeno della profuganza nel mondo arabo e quindi la nascita di quel corollario di campi profughi che si allunga fino ad oggi, intorno non a caso, a corona non a caso del nascente Stato di Israele. Dall'altro lato anche però ha la militarizzazione di questa profuganza, laddove i giovani, una parte di essi, viene impiegata in continue attività di contrapposizione armata, di lotta armata, la definisco in questi termini, nei confronti di Israele medesimo e dei civili di Israele. Se voi pensate solo alle guerre, periodizzate, ma mi fermate a quella roba lì. Invece qui parliamo di uno statuto incerto del territorio, del controllo del territorio, che è un problema che si accompagna alla crescita di Israele fino ad essere superato soltanto poi nel corso del tempo, nel corso del tempo con misure variamente articolate ma anche, come dire, necessariamente radicali. Ci siete? No, lo dico perché questa cosa qua, del problema dello spazio, del luogo, non è solo un problema come alcuni di noi potrebbero pensare, beh, insomma, è il ritorno alla terra dei padri. Questo sta dentro una dimensione affettiva, una dimensione morale, che per alcuni vale, per molti altri non vale. Il problema dello spazio in realtà è legato a sono sicuro che effettivamente questa cosa abbia continuità oppure le circostanze date determineranno la decadenza in un futuro prossimo venturo dell'impresa medesima. Il senso di insicurezza è un dato presente su cui prima il movimento sionista e poi lo Stato di Israele dovrà lavorare molto, dovrà impegnarsi molto, e su cui si modellerà una parte, non tutta, non tutta della identità, non più a questo punto sionista, ma israeliana. Magari ci torneremo la prossima volta perché la questione della terra è una questione capitale, in molti aspetti e da molti punti di vista. Qui ricordavo solo, anche a beneficio di quanto lei mi domandava, alcune questioni importanti che non possiamo, che ci lasciamo adesso alle spalle, ma che non possiamo non ancora costeggiare. Allora, concorso ebraico e lo sforzo bellico-inglese è una scelta precisa che non arriva dagli inglesi ma arriva soprattutto da un'offerta per parte sionista, trattino ebraico, palestinese, dell'ebraismo palestinese, di Shuv, ok? Cioè, noi ci siamo. Tenete conto che fino alla metà del 1942 le prospettive plausibili, ancorché non certe, le cose poi per fortuna sarebbero appunto andate diversamente, è che i tedeschi, anzi, le potenze dell'asse, c'eravamo anche noi italiani, sfondassero in Egitto e arrivassero su. Non era solo una questione militare, era la questione di aggregare le classi dirigenti egiziane e di altri paesi a un progetto egemonico che avrebbe ridisegnato il Mediterraneo, premiandolo in qualche modo, come, quanto e con cosa lo avrebbe detto il tempo. Voi avevate i tedeschi dell'Africa Corps che combattevano con gli italiani, che combattevano bene, questo non è un giudizio di valore rispetto alla causa, ma rispetto al modo in cui combattevano. Gli inglesi, che erano per buona parte del tempo soli, sarebbero poi arrivati gli americani soltanto nel 1942 in maniera compatta, prima erano contributi di ordine economico, di ordine militare, ma di ordine non con truppe. E quindi gli inglesi devono sopportare uno sforzo enorme. C'è anche l'altro progetto, che sembra a un certo punto realizzarsi. Buttiamo Stalin oltre gli Urali e non solo, e poi facciamo una manovra complessa, scendiamo, intanto raggiungiamo i giapponesi, i giapponesi raggiungono noi, fine dell'Unione Sovietica. E poi, questo lo si pensa ancora nel 1942, ci sono tutte le cartine con le vidine di spartizione, partizione, e così via. E nel mentre scendiamo giù, passiamo attraverso l'Iraq, e raggiungiamo la Palestina, e ci troviamo quello che qualcuno allora, qualcun altro oggi definisce il cancro sionista. Ci troviamo quella roba lì. Perché quella, anche i tedeschi l'avevano, i nazisti, usiamo il termine più giusto, perché i tedeschi sono un'altra cosa, non sempre coincidono le due cose. I nazisti l'avevano inteso come, l'atto conclusivo, un Eichmann lo intendeva così per dire, come l'atto conclusivo che avrebbe celebrato la conclusione della presenza ebraica in Europa. Capite? Quindi, non solo come un fatto materiale, ma anche come un fatto simbolico molto forte. Per l'Ishou, questo vuol dire, dobbiamo tenere conto del destino dei nostri, ecco della Shoah nell'Ishou, dei cori regionali che sono rimasti in quei luoghi lì dove vengono sterminati. Cosa di cui si sapeva? Cosa di cui si sapeva? E all'epoca la stampa ebraica nella Palestina mandataria ne parlava. Ne parlava però all'interno di un sistema, di un regime, di un complesso di preoccupazioni particolarmente intense che riguardavano anche il prosieguo, la continuità della propria esistenza. si sapeva, aggiungo solo questo, visto che io so che questo spazio occupa anche attività come quella di Garivo e così via, si sapeva perché ad esempio uomini come Jankarski erano andati in missione. Jankarski è uno dei giusti delle nazioni, un personaggio molto importante in queste storie che stiamo raccontando, un ebreo, scusate, un polacco non ebreo, a volte inverto i termini, ma è elemento, membro dello Stato polacco segreto, così si era autodefinito all'insieme di organizzazioni che si opponevano alla presenza disarticolante dei nazisti nella Polonia occupata. Presenza disarticolante vuole dire disintegrazione completa della società polacca e delle sue organizzazioni culturali, politiche e così via. Jankarski, sostenuto dai suoi compagni di lotta, era entrato non solo nel ghetto di Vassavia ma era entrato in altri luoghi, si era approssimato a uno dei campi di sterminio, era poi stato avventurosamente mandato nelle cancellerie occidentali tra Londra e Washington a testimoniare di quanto stava avvenendo. Aveva reso una testimonianza pressoché, come dire, piena e per molti aspetti ineccepibile. La risposta che aveva ottenuto grazie, arrivederci. Era stata questa la risposta. In buona sostanza. Lui aveva poi pubblicato nel 1944 i suoi resoconti. Tenete conto che quando una guerra è in corso è molto facile per coloro che perpetuano i peggiori crimini dire, beh, è propaganda da parte degli avversari o dei nemici. È molto facile giocare su questo elemento. Poi, tanto più un crimine tanto più un crimine è totale tanto meno è credibile nel momento in cui si realizza. O, in un processo, come dire, di elaborazione psicologica ed emotiva più articolato, tanto più è facile rimuoverlo davanti alla sua, paradossalmente, tangibilità. Gli ebrei, d'altro canto, erano stati dichiarati nemici della razza ariana, nemici dell'Asse. E quindi, insomma, si andava o loro o noi, si diceva. Le cancellerie occidentali, quelle che erano sopravvissute alle invasioni tedesche e dell'Asse, non consideravano una priorità militare. insalvare quella parte di popolazione civile europea che era sottoposta a un'opera di sterminio. Questa cosa noi la valutiamo e non potrebbe essere altrimenti in un modo molto severo oggi e non sono disposto a concedere nulla dinanzi alle deroghe da parte di un Roosevelt piuttosto che di altri ancora e non meno vero che all'epoca veniva percepita, vissuta, non solo dalle classi dirigenti degli stati liberi, ma anche dalla popolazione di quei paesi lì in maniera molto diversa da come ne abbiamo noi. Era, ripeto, un elemento, laddove se ne avesse una qualche cognizione, di una vicenda bellica, clamorosa, che, insomma, doveva essere risolta sui campi di battaglia. Capite? Le stagioni del ricordo, della memoria e le stagioni del giudizio sulla storia cambiano nel corso del tempo. Non cambiano i valori morali. Va bene? O forse mutano, ma mutano in base a sensibilità articolata nel corso del tempo. Ma il modo in cui quel passato viene vissuto è mutato nel corso del tempo. Aggiungo anche discorso, per chiudere questa cosa qua, sulla seduzione di fascismi nei confronti di una parte dell'intellettualità araba. Questo è un tema che richiederebbe a suo volto se non un percorso, quantomeno un paio di incontri con fonti alla mano perché è un tema ridevante. Cioè, il nazionalismo, i nazionalismi arabi non erano tutti proclivi ai fascismi. Sarebbe un errore, una banalizzazione assoluta dire una cosa di questo genere. Ma il modello, come posso dire, organicista del nazismo era estremamente seducente. Dava l'idea di una società ordinata, di una società che funzionava, dove le parti corrispondevano a un unico centro, dove finalmente la ristrutturazione del vecchio sistema coloniale franco-britannico avrebbe comportato la nascita di società basate non sulla solidarietà, non sull'eguaglianza, ma sulla uniformità. Era vista come una grande ipotesi di cambiamento plausibile. Erano sconcezze senz'altro da un punto di vista politico-ideologico, erano vaniloqui senz'altro da un punto di vista pratico, però l'impressione era molto forte in quegli anni tra una parte del dirigente. La collettività era all'epoca la collettività araba era impegnata e occupata da ben altri ordini di priorità. Però se parliamo di chi all'epoca poteva parlare, intendo dire le classi dirigenti, questo elemento di fascinazione era molto forte. Questo elemento noi potremmo dire oggi di seduzione e di corruzione, ma era molto forte. Tenete conto che i fascismi sono fortemente corruttivi da questo punto di vista. Allora come oggi, riescono come dire a entrare utilizzo volutamente un'espressione quasi criptica io che sono di formazione politologica storica e internazionalista si dice e non sono certo uno psicologo né tantomeno un clinico ma riescono ad entrare dentro le strutture come potrei dire elementari della psiche dell'individuo bene, male, giusto, sbagliato, destra, sinistra, questo modo dicotomico tutto il bene sta da una parte e tutto il male sta dall'altro non c'è grigiore togliamo il grigiore del mondo tutto splenderà così si presentavano in maniera così abbagliante i sistemi totalitari e all'epoca la fascinazione totalitaria era molto forte capite? Per intenderci per non dare dei giudizi frittolosi qui penso di averlo già spedito a risposta di queste cose qua poi vado avanti però volevo solo mettere in rilievo che nell'ethos scusate eh sionista ci sono due o tre cose importanti l'autonarrazione segue la descrizione di se stessi segue gli eventi diciamo che nella storia ebraica sono eventi o vittoriosi o comunque eventi di contrapposizione armata fisica vi ricordate il discorso che facevamo è un discorso che Israele recupera in tutto dell'essere padroni del proprio destino e del non subire le condizioni avverse quindi del darsi anche una concezione che supera l'idea dell'autogettizzazione e che supera le separazioni e le frammentazioni altrimenti esistenti all'interno non solo del dibattito ebraico ma delle società ebraiche in quanto tale e allora la condizione esiliaca da questo punto di vista soprattutto dopo la distruzione del secondo tempio era vissuta come era descritta era elaborata come una condizione di marginalità come una condizione per molti aspetti da rifiutare negli anni 40 non a caso un Ben Gurion parlerà uno di rivoluzione un termine che all'epoca riecheggiava fortemente due di rivolta contro il proprio destino sono anni di guerra sono anni drammatici dove le cose sono particolarmente intense dove come vi dicevo prima di incertezza è fortissima il sionismo quindi come atto militante era un dato molto forte non posso soffermarmi troppo su queste cose qui se no poi perdiamo altre parti importanti le rivedrete velocemente quantomeno nelle slide che riceverete ma quando noi arriviamo alla nascita di Israele durante e a conclusione degli anni del mandato britannico abbiamo alcuni elementi tra gli altri da mettere ancora a fuoco o per meglio dire da ricordare si è esaurito si è esaurita una visione ruralistica dell'ebreo che torna alle sue origini e che si rigenera vi ricordate il discorso dell'auto emancipazione di rigenerazione allora tutto era giocato negli anni 10 ancora negli anni 20 sulla rilevanza del sistema rurale del ritorno alla terra o dell'andare alla terra questa cosa con le trasformazioni che sono avvenute nei decenni nei due decenni successivi con gli anni 40 non è accantonata ma deve contemperarsi con l'esistenza di una società ebraica palestinese un nuovo issue che è fortemente legato alla dimensione urbana non solo in termini numerici ma di culture sociali economiche e così via c'è uno sviluppo anche di un'economia ormai industriale che ad esempio è già volata dai processi bellici da questo punto di vista e non solo questo fa sì che sul piano della coscienza di sé il sionismo non possa più raccontarsi solo come una presa una ripresa della propria identità legata alla terra da coltivare e da difendere è qualcosa di di più ed è qualcosa di diverso bisogna fare i conti con la dimensione borghese quel sionismo che risulterà vincente comunque ha sempre avuto una qualche perplessità rispetto al mondo borghese è un tema di antico retaggio che non riguarda solo il sionismo laddove come dire lo sviluppo economico capitalistico in qualche modo è visto come qualcosa di accettabile qualcosa che sta nell'ordine delle cose ma lo spirito borghese è visto come un elemento se non di corruzione parola eccessiva in questo caso comunque di attenuazione dello spirito militante però in realtà la composizione della società ebraica palestinese con gli anni 40 è una composizione molto mista molto articolata dove il modello del kibbutz cioè della colonia pioneristica su base egualitaria che aveva costituito uno degli assi trainanti dei primi decenni del sionismo deve confrontarsi con una società che va articolandosi nella sua varietà nella sua complessità nella sua differenziazione questo comporta dal punto di vista politico culturale dei mutamenti non irrilevanti tenete conto per l'appunto che è uno dei fattori che ad esempio fa sì che il sionismo più accesamente ideologico legato all'estremismo all'estremismo o comunque al radicalismo soprattutto di sinistra ma non solo in parte anche di destra che ipotizzava una società completamente nuova e diversa cioè noi non facciamo una società ebraica noi facciamo anche una società completamente nuova e diversa su nuove basi ne esca da questo punto di vista da questo versante se non sconfitto fortemente attenuato fortemente attenuato perché la società che nasce è una società che ricalca per diversi aspetti componenti che già preesistevano all'esperienza israeliana e che in esse sarebbero poi confluite nelle società europee poi avremo a che fare è sempre molto difficile arrivare alle sintesi il rischio di usare parole impropri anche in questo caso qua ma poi avremo a che fare soprattutto nei primi 20 o 30 anni con una società israeliana dove il modello di riferimento prevalente è quello delle socialdemocrazie europee tutto del nord anche perché senza l'intervento di organismi pubblici e dello Stato di quello che noi chiamiamo Stato in realtà è qualcosa di più complesso del sistema pubblico difficilmente Israele avrebbe retto alle prove di una trasformazione così intensa così come adesso la vedremo inoltre l'ultimo elemento sul quale voglio come dire soffermarmi almeno rispetto a questa slide è il sionismo diplomatico ne abbiamo già trattato quando parlavamo di Ers insomma delle origini dell'idea cioè che prima si fa lo Stato e poi si fa la società e quella come dire appartiene a un'epoca storica che ormai a questo punto è superata sionismo diplomatico vuol dire che la concezione e la cognizione che hanno una parte dei gruppi dirigenti sionisti negli anni 40 e che si sconterà un isolamento corposo rilevante nella regione ma una premessa per riuscire a far fronte a questo isolamento sarà avere dei rapporti diplomatici continuativi con tutta una serie di interlocutori dai quali non ci si deve isolare e la risposta che si dava prima rispetto al rapporto con l'Inghilterra nel senso che loro sono dominatori dominos della situazione fino al 48 ma con loro non possiamo interrompere i rapporti non c'è solo Weizmann primo presidente della Repubblica Israe a dirlo c'è un insieme di soggetti che dicono beh gli inglesi sono così ma con gli inglesi dobbiamo averci a che fare lo stesso discorso fate debite proporzioni e debite differenze riguarda il campo opposto l'unione sovietica ora in realtà a spingere per la creazione di uno stato degli ebrei e Mosca non solo ma Mosca soprattutto Mosca ha un disegno politico evidentemente dirlo ciò nasce un altro stato socialista no lo sanno lo sanno conoscono benissimo i loro interlocutori non è uno stato che va a giungersi al blocco socialista però è uno stato che ha soggetti che incorporano una classe dirigente che comunque sia ricorderete sia formata nei decenni precedenti in un ambiente dell'est europeo dove le suggestioni non solo rivoluzionarie non solo comuniste ma per l'appunto socialiste erano molto forti quindi c'è un linguaggio comune su alcune questioni punto uno e questo è un dato diciamo culturale che Mosca in un primo tempo considera tra il 45 e il 48 un secondo dato secondo me importante rilevante che nella politica diplomatica moscovita a decidere non era solo stalin per intenderci anche se poi stalin farà deragliare tutto a decidere anche altri centri di potere dentro la politica sovietica un altro dato importante dicevo è secondo me un'opzione che viene fatta nel momento in cui il bipolarismo divide veramente non soltanto l'Europa ma anche il Mediterraneo non solo il Mediterraneo ma anche poi il sud-est asiatico e quant'altro in due tronconi distinti con tanto di corredo di guerre non più in Europa ma in altri luoghi a partire dalla guerra di Corea e così via l'idea è di avere comunque una serie di stati che siano territorio franco nei quali ci si può incontrare con gli avversari senza che questo procuri imbarazzo gli uni e gli altri faccio un esempio per intenderci la Svizzera poteva essere invasa e occupata dai nazisti senza grandi problemi non solo perché avevano robuste quinte colonne all'interno del territorio svizzero a partire dalla componente di lingua tedesca non solo perché vi erano movimenti nazisti radicati ma perché la Svizzera non rappresentava un grosso problema operativo per un esercito come quello tedesco che nel 43 ha 15 milioni di uomini in servizio di prima linea la Svizzera viene preservata Berna viene preservata Zurigo viene preservata Lugano viene preservata perché c'è bisogno di un territorio franco dove ci si possa incontrare con i propri avversari senza che nessuno lo sappia mi capite fra l'altro negli anni della guerra la Svizzera ha un ruolo capitale per il momento sionista perché anch'esso come da lunga tradizione peraltro perché una parte consente dei congressi sionisti sono fatti in Svizzera non a caso dove ci era in territorio franco dove non c'erano le comunità ebraiche che potevano in qualche modo dire ci va o non ci va che ci siano i sionisti qua a fare il loro congresso capite ecco la Svizzera è un esempio di territorio dove le parti ostili o in conflitto possono incontrarsi ora nel dopoguerra nel secondo dopoguerra il pensiero che sicuramente o anzi trovo sicuramente che probabilmente Mosca nutriva ma aggiungo ciò poteva essere secondata anche da Washington e Londra che dovessero esserci degli stati o comunque delle aree dove ci si asteneva dal rivendicare un controllo o un'egemonia diretta semmai la si esercitava in forma molto più soffusa non democrazie popolari come si sarebbero chiamati i regimi dell'est e non sistemi liberali democratici nel circuito dell'ovest a nord avevate la Finlandia che in qualche modo ricadeva ancora che indirettamente sotto il controllo sovietico cosa voleva dire che la Finlandia era una stata autonoma indipendente ma che non avrebbe pregiudicato gli interessi sovietici a partire da quelli militari e la Finlandia era una zona dove ci si incontrava come avveniva precedentemente in Svezia e in Svizzera per fare accordi senza che nessuno lo sapesse perché la guerra il confronto comunque anche in guerra fredda avrebbe implicato queste cose qua centro Europa c'era l'Austria l'Austria ricadeva sotto la sfera dell'Occidente era parte integrante nel sistema bipolare dell'Occidente però l'Austria era demilitarizzata parliamo di Aliabet parliamo dell'impegno allora degli ebrei sionisti per aiutare i corregionari e farli andare nel paese della mandataria l'Austria è un passaggio fondamentale uno snodo fondamentale insieme all'Italia di questa rete non a caso non solo per un dato come dire geopolitico ma perché per l'appunto certe cose risultavano più plausibili o fattibili che non in altri luoghi l'Austria diventerà un luogo dove gli uni e gli altri occidentali e orientali comunisti tra virgolette o rossi chiamateli come meglio volete o usate anche altre espressioni o blocco dell'est e blocco dell'ovest si incontreranno e medieranno una serie di conflitti nel Mediterraneo davanti alle trasformazioni in atto soprattutto negli anni 40 Israele non avrebbe potuto svolgere un ruolo di tal fatta cioè di essere un luogo dove comunque non c'era un'ostilità a priori nei confronti del blocco sovietico in realtà poi all'inizio degli anni 50 le classi dirigenti israeliane dichiareranno definitivamente al di là di ogni come dire ragionevole dubbio la loro opzione per il chiamiamolo modello occidentale per il blocco occidentale e questa sarà una scelta politica che si inquadra dentro certe logiche e non meno vero però che da questo punto di vista comunque sia il rapporto con l'Oriente sotto la sfera comunista per Marra basti anche solo pensare alcune cose il rapporto con la Romania di Ceaucescu la Romania di Ceaucescu non avrà mai una dichiarata politica anti-israeliana prego il Vaticano in tutta questa il Vaticano da questo punto di vista più che una domanda nel merito del suo agire diplomatico che in parte si conosce in parte ancora secretato e non a caso è uno dei luoghi come dire più irraggiungibili anche per gli storici cioè c'è tutta una messe di dati di cose che però sono quelle più facilmente fruibili il resto come dire rimane sospeso nel vuoto cioè potete gli archivi fascisti gli archivi comunisti gli archivi nazisti tutto quello che è rimasto è stato poi desecretato o comunque per un certo periodo di tempo si è potuto vedere sul Vaticano come dire c'è tutta una serie di punti interrogativi il Vaticano insomma era depositario posso dire questo era depositario di una politica che non era qui do un giudizio di valore mio su quale potete dissentire su tutto potete dissentire tanto più però suggerito i giudizi non era depositario di una politica fino nazista secondo me il discorso di Pio XII come Papa di Hitler è veramente una leggenda nera senz'altro Pio XII aveva però e tutto quello la curia romana e tutto il resto che ne sarebbe in parte derivato e conseguito aveva due o tre capelli saldi uno l'anticomunismo più secco e più netto insomma non avere come si diceva all'epoca i cavalli dei cosacchi che si abbeverano in piazza San Pietro era un'immagine un'immagine che può fare anche sorridere ma all'epoca era vissuta come qualcosa di angosciante Pio XII era dichiaratamente espressamente anticomunista è direi l'ossatura del suo pensiero oltre a essere germanofilo era stato nunzio apostolico Germania la sua formazione culturale era germanofona cioè il suo modo di pensare le sue concezioni le sue idee erano depositargli del confronto con la società tedesca né più né meno come cosa che può risultare a noi scarsamente comprensibile forse l'ho già detto qua senza l'altro l'ho detto in altri posti il ratto del 16 ottobre del 43 lo puoi fare bene lo puoi fare bene perché hai uomini come Kappler che sono italofoni che conoscono l'Italia meno a dito tanto più Roma che sono acclimatati alla cultura dell'Italia non erano solo delle bestie voglio dire gli uni e gli altri erano soggetti che avevano conosciuto una traiettoria di formazione culturale quindi se noi parliamo del Vaticano di quegli anni lì parliamo di un Vaticano che sostanzialmente è estraneo trattino avverso a quanto sta avvenendo guarda al sionismo come a un elemento di pregiudizio dei propri interessi non so quanto chiari avesse quali fossero i suoi interessi in quei luoghi lì di certo comunque attenuare l'impatto di una minoranza vissuta se non con ostilità comunque con distanza e differenziazione laddove questa minoranza si trasformava in soggetto politico che era un cambiamento epocale un cambiamento epocale su questo il Vaticano poco o nulla avrebbe concesso non l'aveva concesso in epoche ben diverse e meno diciamo così calamitose quando Herzl si recò dal Papa fu ricevuto dal Pontefice e questo gli spose anche egli grazie ma non ci interessa abbiamo ben altri progetti men che meno adesso che si stanno facendo come dire i giochi che sono giochi importanti che vanno come dire guardate non solo sono giochi sulla divisione di quella terra noi pensiamo alla divisione della terra alla conclusione del mandato al piano rispartizione del 1947 e così via ma qui pensiamo dobbiamo ragionare in un'ottica di quadro regionale o che il Vaticano può pensare al destino delle comunità cristiane in quel consesso in quel contesto come in altri contesti è un aspetto il destino delle comunità cristiane è un indice per il Vaticano per valutare i suoi propri interessi per il suo proprio agire ma non c'è solo quello il problema del rapporto allora come oggi con il mondo arabo trattino musulmano oggi molto più musulmano che arabo tanto più con i cambiamenti che sono avvenuti eccetera eccetera il Vaticano pensate anche a una cosa che in quegli anni lì è l'erede dello stato pontificio oggi il tempo è trascorso ma doveva ancora finire di rilavorare la ferita che aveva subito in corpo revidico nel proprio corpo della trasformazione da soggetto temporale riconosciuto come tale a soggetto che esercita una funzione politica che è uno stato anche indipendente ma che ha delle dimensioni e che ha non solo materiali non solo fattuali non solo spaziali ma che ha anche un tipo di diplomazia diverso da quello che la territorialità gli aveva concesso fino agli anni 70 del secolo precedente tutti gli argomenti che lei cita sono per fare assolutamente corretti per quello che riguarda il discorso di una politica del Vaticano che ha trovato un'azione di un stato di re però la mostra che c'è adesso al memoriale documenta che il fatto di re italiani sono stati venuti un giorno fermi a Roma senza un'altra giustificazione di quella dell'ambasciatore tedesco in Vaticano che aspettava di capire che cosa avrebbe fatto Pio XII e Pio XII si astenne no 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 ha una sua impronta e fuori di discussione questo il punto che il Vaticano si muoveva con grandissima circospezione punto uno punto due il Vaticano si poneva il problema del se perdono le potenze dell'asse in questo caso poi vuol dire i nazisti e considerate anche i giapponesi sul lato versante non ci troviamo i russi qui poteva essere uno spauracchio come poteva essere come dire un'ipotesi molto chiara punto tre punto tre c'erano incostrazioni molto forti che potevano riguardare gli uni rispetto agli altri non so quanto Pio XII ma gli ebrei non erano anche una quinta colonna del giudeo-bolshevismo tenete conto che il termine giudeo-bolshevismo precedevano solo di ebrei comunista nella comunità ebrega non è questo il punto non è cosa fossero ma come venivano immaginati io vi faccio presente che il termine giudeo-bolshevismo che non viene coordinato dai nazisti è una cosa che è una lunga storia che nasce da gli ambienti cosiddetti contro-rivoluzionari tra il 17 19 e il 21 nella guerra civile che si scatena ferocemente contro i rossi bianchi bianchi rossi che è tema che viene poi fatto circolare tra le potenze occidentali non è solo una questione che riguardi che ne so i membri del clero piuttosto che gli appartenenti all'aristocrazia zarista fuggiti l'idea è cioè che comunque quella minoranza lì fosse portatrice del bacillo del comunismo tutta la campagna in oriente contro i comunisti o per meglio dire anche qui usiamo termini più appropriati contro l'unione sovietica che non è necessariamente coincidente con il comunismo in quanto tale in senso stretto è una campagna che si gioca che si motiva che si giustifica davanti a milioni e milioni di soldati combattenti a milioni e milioni di donne e uomini della popolazione tedesca ed europea come battaglia contro l'ebraismo la sovrapposizione tra ebraismo e comunismo e aspetti deteriori del capitalismo lo spirito borghese è un fatto comune diffuso direi ovvio scontato ci sarà un lungo lavoro chiamiamolo così di rielaborazione nel corso del tempo con la fine della seconda guerra mondiale dove a un certo punto anche quel tema lì verrà dipanato non risolto non risolto perché io vedo che oggi tende a riaffiorare in forme nuove inedite adeguate ma giudeo bolshevismo era una categoria comune comune nei movimenti politici della destra non necessariamente solo di quella estrema e qualificava come potrei dire qualcosa di profondo la presenza di una minaccia interna che va buttata fuori ma perché una parte delle società europee sbraca letteralmente nel momento in cui viene occupata dai nazisti e scende non solo a compromesso ma a compromissione totale penso alla Francia di Vichy Vaticano va bene ma pensate alla Francia di Vichy è una compromissione totale quando arriverà De Gaulle sarà un bagno di sangue De Gaulle che non molla su questa cosa qua non molla su questa cosa qua De Gaulle è un liberale noi diremmo oggi un liberale tra virgolette di destra per quello che valgono queste nazionaliste eccetera ma su quella roba lì non molla quando arriva fa un regolamento di conti con i compromessi con l'occupazione perché non sono interlocutori non sono neanche avversari sono persone che hanno consegnato la Francia di riflesso anche i concittadini di origine e religione ebraica a la peggiore dell'occupazione che è l'occupazione come potrei dire permettetemi l'espressione del cuore prima ancora che della fisica materiale dovete considerare tutte queste cose qua quando date ho formato una valutazione o un giudizio sui singoli soggetti presenti all'epoca allora secondo me è decisiva questa cosa qui dell'atteggiamento omissivo di Pio XII e della curia romana non solo perché parliamo noi pensiamo sempre alla figura Hitler Pio XII Stalin sull'altro versante Churchill Roosevelt Ben Gurion Refezal Refa Rook metteteci quello che vuoi ma qui parliamo come dire di sistemi sufficientemente policratici dove comunque la figura di rilievo è garante di un insieme di poteri quindi non può non tenere in considerazione cosa gli altri gli dicono fossero anche solo suoi subordinati ebbene dico quando formuliamo un giudizio su questi personaggi dobbiamo tenere conto di quelle che erano le ideologie correnti allora la prima metà del novecento è attraversata da un furioso antisemitismo che era una moneta del tutto comune per ricostruire l'Europa bisogna a un certo punto dire cacciamo fuori l'antisemitismo dal discorso pubblico che non vuol dire che l'antisemitismo viene cancellato non vuol dire che viene cancellato oggi ritorna in un altro modo in maniera ingentilita ma ritorna magari la prossima volta ne parliamo qualcosa l'abbiamo già detto perché l'antisemitismo si presenta sempre in forma ingentilita dice non io parlo contro qualcuno ma parlo a favore degli interessi dei molti quella roba lì era una cosa molto comune gli ebrei hanno generato le peggiori inequizze del mondo hanno fatto un regime che ha disintegrato l'ancien regime la buona società zarista potete capire come lo fosse che ha disarticolato le strutture economiche sociali della Russia più profonda queste immagini sono fortemente calzanti e poi ha creato prima ancora non poi ha creato il capitalismo più efferato che si mangia gli uomini lo spirito borghese lo spirito come dire di chi si ingrassa a danno del popolo il popolo il popolo oggi si dice gente sono temi che ritornano non necessariamente procurano gli stessi effetti ma sono temi che ritornano a lungo periodo quando si rifà l'Europa dal 45 in poi quella roba bisogna iniziare a buttarla fuori qualcuno inizia a fare i conti i tedeschi ci impiegano 30 anni a fare i conti ma qualcosa producono in Italia i conti non li fa o li fa in misura molto limitata li fa in misura molto limitata ne abbiamo parlato in un altro contesto in un altro consesso anche recentemente su diciamo una rimozione non operosa di queste cose qua non li fa perché vuol dire non prendere il fascista ma prendere la collettività e dire tu dov'eri cosa hai fatto ci vorrà una generazione ad esempio in Germania che si interroga su questa cosa qua i figli il 68 tedesco è quella roba lì convulsa che poi va a finire precipita in alcune componenti nella RAF avete presente laddove c'era una componente ferata ma che diceva noi ce la prendiamo con la generazione tra le altre cose non solo contro gli sporchi capitalisti per fare la rivoluzione eccetera eccetera ma ce la prendiamo anche con quelli che erano compromessi col vecchio regime fanno fuori il capo della confindustria che è compromesso con le SS prendiamo la pariglia siete stati feroci lo saremo anche noi in sostanza è la parte più brutale voglio dire di una storia dove invece poi la collettività una parte della collettività una parte della collettività a partire dall'università il luogo di studio rivendica la propria autonomia generazionale dicendo beh adesso ragioniamo su quella roba lì che è come dire altrimenti un tumore che continua a persistere e continua a inquinare le nostre società ora interrogarsi su più dodicesimo ha senso avrebbe più senso se avessimo più documentazione avrebbe più senso se fossimo anche meno propensi a dividerci pro o contro anche in ambito ebraico però va inserito dentro questo contesto qua cosa posso dire io senza come dire strumenti e fonti precise anche perché certe cose non si scrivono si fanno o si lasciano fare e che se più dodicesimo o chi per lui avesse messo qualche chiamiamola misericordiosa parola sui 1200 romani ebrei romani italiani romani e poi ebrei che stavano per essere spediti in un luogo di sterminio costoro sarebbero partiti sarebbero andati in un campo di concentramento plausibilmente ma non di sterminio da qualcosa avrebbe comportato delle differenze mi dispiace è una contabilità del diavolo però tornare in una quindicina o tornare in tre o quattrocento fa una differenza per una parte restante che non è tornata su quella roba lì ci si astenne ci si astenne per così dire la compromissione giunse a quel livello lì fermo restando che nel 43 il Vaticano non poteva non sapere o non prevedere che la guerra l'esito era come dire prevedibile scusate si aprono molte parentesi molto interessanti su questa cosa qui però devo almeno cercare di dire qualcosa se no poi la prossima volta ci troviamo come dire troppo troppi argomenti insieme sui piani di spartizione che risalgono al 37 che in parte vengono anche sollecitati dalla stessa Gran Bretagna in un primo momento non c'è molto da aggiungere rispetto alle cartine è rilevante qualche elemento che dipende quanto stavamo dicendo prima primo dato a spingere per una spartizione sono alcuni soggetti e in particolar modo non i britannici che assistono a quanto sta avvenendo ma con una distanza perplessa a tratti ostile bensì altri soggetti come coloro che vogliono utilizzare l'ONU come una ribalta pubblica riuscendoci primo fra tutti ritorno al discorso dell'Unione Sovietica Gromico allora ministro degli esteri dell'Unione Sovietica fa un discorso tanto duro quanto limpido alle Nazioni Unite dice davanti siamo nel 47 46-47 davanti si è proclamata la internazionalizzazione del problema del destino di queste terre davanti al trattamento che voi occidentali avete permesso che fosse riservato agli ebrei ora l'unica possibilità che possiamo e dobbiamo concedere agli ebrei ai medesimi è che abbiano uno Stato per potersi autotutelare in tutto questo ovviamente come sempre nella dimrovanza ci sono diversi livelli di interpretazione e di lettura Gromico utilizza il palco delle Nazioni Unite dell'Assemblea Generale come un luogo dove dove mettere in Stato d'accusa a questo punto la frattura tra est dove si è già consumata da tempo le potenze occidentali ma come dire fa un discorso molto chiaro e molto netto su questo passante dice non possiamo disconoscere quelle che sono le esigenze degli ebrei da un lato questi ebrei e dall'altro lato quelle che sono le istanze portate avanti dal movimento sionista deve nascere uno Stato degli ebrei su questo ci sono poi posizioni molto articolate gli Stati Uniti come reagiscono gli Stati Uniti faticano da questo punto di vista gli Stati Uniti hanno compreso e hanno capito che già da tempo si dovranno sostituire le potenze declinanti questo può essere un'opportunità ma sono anche molti vincoli sono costi a venire non date per scontato il fatto che una politica anche chiamiamola pure di impero laddove sia tale sia sempre a beneficio del centro dell'impero medesimo sono negli costi su cui ad esempio anche le presidenze più recenti negli Stati Uniti hanno fatto dei passi indietro a partire dall'assessuale Obama prima ancora che Trump perché questa cosa qui può dare dei ricavi ma vuol dire un controllo planetario che ha dei costi rilevanti quanto ci rende e quanto ci costa non solo in termini economici poi negli Stati Uniti sistema policratico ci saranno sempre posizioni diversificate tutt'oggi sono posizioni diversificate rispetto a Israele benché vi sia come dire un'alleanza politico-militare lunghissimo di ignaggio eccetera però con differenziazioni che si rileveranno anche durante gli episodi bellici da un lato ci sono delle presidenze americane che nel corso del tempo assumono un atteggiamento fortemente filo-israeliano e prima ancora filo-sionista che nasce da molti elementi e da molti moventi non da ultimo trascurerei se parliamo di storia culturale oltre che politica il fatto della dimensione protestante dove questa c'è protestantesimo cosa vuol dire l'uso di ciò che viene chiamato antico testamento una certa confidenza con qualcosa che ad esempio i cattolici molto di meno hanno superato dalle evangelie eccetera eccetera questa cosa in un personaggio come Truman ad esempio ha un ruolo ha una rilevanza ha la rilevanza anche il fatto che il dipartimento di stato dice no 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 ma cosa andiamo a sostenere un'impresa di questo genere insomma con 600.000 persone male assortite organizzate con il rischio di alienarci non solo nel presente ma nel futuro il rapporto con il mondo arabo che è un rapporto su cui giocheremo una parte della partita fondamentale nel confronto con l'Unione sovietica tenete conto che allora come nelle presidenze successive la spaccatura tra presidenza e dipartimento di stato si gioca molto e oggi questa cosa potrebbe ripetersi da oggi in avanti insomma sul fatto che la presidenza in genere è rappresentata da una figura ruspante oggi più che mai oggi più che mai qualcuno dice ma al di là delle battute di circostanza la presidenza ruspante era il presidente carismatica i presidenti sono sempre stati più dosso carismatici forse un Eisenhower era stato di meno ma Eisenhower era militare che aveva vinto la guerra eccetera aveva quel carisma lì Kennedy aveva un macro carisma anche perché doveva farsi perdonare tra virgolette il fatto di essere cattolico di origine irlandese cosa che in un paese wasp allora non era mica tanto ben accetta e sapete come le cose sono andate a finire insomma mica tanto bene eccetera eccetera per ogni presidente potremmo dire queste cose qua sul versante del dipartimento di stato cosa avete non avete soltanto il ministro cioè il sottosegretario incaricato al dipartimento di stato ma avete a che fare col pensatoio i presidenti tradizionalmente in America hanno avuto sempre un senso di inferiorità nei confronti dei cervelloni che stanno nei vari dipartimenti cioè nei vari ministeri e una parte delle reazioni politiche che i presidenti hanno espresso nel corso del tempo nascevano anche come contrapposizione alle grandi tra virgolette pensate così le definivano dei cervelloni delle teste d'uovo si diceva una volta da parte di questi soggetti allora non interpretiamo tutte le scelte politiche solo sulla base dell'aneddotica va da sé però tenete conto che se in un primo momento l'Unione Sovietica è di riflesso il blocco socialista che si va costituendo piuttosto compatto rispetto all'opzione Israele si fa e la appoggiamo nelle sedi diplomatiche e la appoggiamo sul piano militare perché prima che nasca lo Stato di Israele un elemento fondamentale è fornire armi ai sionisti e le armi non arrivano da Occidente vengono sequestrate dagli occidentali e dagli inglesi le armi arrivano dall'Oriente non arrivano da Mosca arrivano ad esempio dai depositi che sono stati raccolti con la resa dell'esercito tedesco la Cercoslovacchia nel marzo-aprile del 48 spedisce significative quantità di armi che per un piccolo esercito molto piccolo molto piccolo quale è quello che andava costituendosi intorno alla Gana è decisiva voi dovete controllare un territorio che non è svisurato ma dovete avere due aerei due Spitfire per dire avete presente l'area aelica che si utilizzavano ancora all'epoca vuol dire fare la differenza nel momento del confronto della battaglia capite qui non parliamo di macro-guerre parliamo di conflitti in aree racchiuse ma a forte intensità dove l'aiuto e il contributo militare esterno è decisivo e fondamentale su questo c'è una scelta come dire non ideologica ma di calcolo diplomatico e politico piuttosto precisa poi le cose cambieranno nel corso del tempo ma se parliamo di questi anni non è un'adesione di campo non uscite da questo incontro dicendo ah beh ma allora insomma lì era pappa e ciccia col mondo comunista no non è così non è così non funziona in questi termini qua e dal fatto che nelle diversi atteggiamenti diplomatici che si vanno definendo e che poi muteranno ancora perché poi il declino di Stalin sarà un ritorno alla grande dell'antisemitismo più paranoide e così via quindi rovinerà tutto dal punto di vista sovietico però quello che si va definendo in quegli anni gioca su queste discrepanze su queste discontinuità io qui vi ho messo ci siete vi ho messo tutti alcuni dati di una cronologia di massima non so se volete possiamo anche poi tornarci quantomeno anche nei tempi di avvenire ma più che altro metterei in rilievo due o tre cose importanti se parliamo di Israele nei primi trent'anni ci sono diversi antagonisti ma la vera figura importante negli anni cinquanta e negli anni sessanta è una figura oggi obnubilata di Nasser Nasser si candida a diventare il leader badate bene non solo dell'Egitto e lo diventa al destino di molti leader di essere come dire amato apprezzato perché poi sconfitto nei fatti ma Nasser è una figura molto importante all'epoca perché coglie per così dire insieme ad altri dirigenti come un tito per dire in Jugoslavia oppure un ero in India le possibilità che si creano nella contrapposizione tra occidente e oriente giocandole poi sul piano sia nazionale Egitto sia sul piano geospaziale Medio Oriente realtà magrebina maschilina negli anni suoi propri il vero antagonista su questo versante se dobbiamo andare a sintesi in quegli anni lì è la figura di Nasser che è fra l'altro una figura solo due note molto brevi interessante e significativa perché ci riporta a un soggetto col quale avremo ancora a che fare nella prossima conversazione l'Egitto di allora e di oggi è un Egitto tendenzialmente monocratico che si basa come spesso capita con società in via di sviluppo su un'ossatura dove l'esercito è fondamentale l'esercito è in sostanza quella parte della pubblica amministrazione che funziona ed è quella parte che fra l'altro ha un'economia particolarmente robusta l'esercito non è soltanto un sistema di armi non è un insieme di forze armate l'esercito è essenzialmente un segmento significativo della società se vuoi avere un avanzamento sociale conoscere mobilità sociale devi stare dentro l'esercito diventarne parte integrante i leader dell'esercito una volta che hanno concluso la carriera militare entrano in politica o una volta che ritengono di poter andare oltre la carriera militare entrano in politica sono leader che oggi noi definiremmo populisti è un termine molto vago molto variegato ha molti significati Nasser coglie come dire le possibilità che gli sono offerte in una dimensione di scenario vi faccio presente che il prosiego di ostilità al di là dei conflitti militari in quanto tali che accompagnano gli anni 50 e gli anni 60 fino agli anni 70 nei confronti degli incerti confini di linee armistiziali che riguardano Israele vedono gli egiziani in un ruolo rilevante i fedain così si chiamavano i combattenti o i praticanti della lotta armata contro i civili israeliani passano prevalentemente ancorché non esclusivamente dal sud sono sostenuti dagli egiziani sono sostenuti da Nasser Nasser è come dire un uomo che si è ibridato alle ideologie politiche del novecento ha una componente socialisticheggiante il suo riferimento prevalente è il socialismo nazionale che può essere ribaltato l'avete capito anche in qualcosa di cui abbiamo già parlato è legato fortemente è legato fortemente anche se non lo può riconoscere questo varrà anche per Sadat ha un gruppo di opposizione che però è innervato allora come oggi dentro i gangli dell'amministrazione egiziana i fratelli musulmani che sono il vero partito politico per eccellenza del Medio Oriente trasversale che fra le altre cose produce per figliazione un movimento che conosciamo quanto meno di nome Hamas che negli anni 60 subito negli anni 70 si articolerà e prenderà a Gaza come dire un ruolo assumerà un ruolo rilevante mi seguite? quindi parliamo non solo di una figura di carisma rispetto al proprio paese ma di una figura che attraversa tutta una serie di elementi che appartengono alla storia e alla cultura del Novecento se parlassimo di altre realtà e di altre dimensioni potremmo fare analogie e differenze con altri personaggi che si sono formati molto a contatto col mondo occidentale faccio solo un esempio tenute ben ben separate le dovute differenze pensate a personaggi come Pol Pot giustamente vuol dire cosa c'entra con Nasser poco o nulla però Pol Pot è stato un dirigente fondamentale nel sudeste asiatico Pol Pot non si è formato nelle risaie si è formato in Francia poi tutto quello che ha fatto quello che il suo gruppo dirigente ha fatto l'autogenocidio sta dentro anche logiche intestina alla Cambogia alla guerra nel sudeste asiatico eccetera 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 però la formazione di questi personaggi rilevanti nella differenza anche radicale che possono esprimere gli uni rispetto agli altri è a contatto con i modelli occidentali che vengono poi tradotte all'interno delle loro società in maniera effervescente rispetto alle circostanze laddove il rispetto nei confronti anche della collettività e della cittadinanza assente ma questo è un altro paio di mali che è altra cosa importante in quegli anni lì è la dottrina che viene formalizzata preesisteva viene formalizzata nel settembre del 67 è una di quelle cose che si dimenticano in genere ma cito tra le altre cose questo fatto quando i capi di governo del mondo arabo 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 non necessariamente musulmano cioè cosa vuol dire sì l'elemento della religione musulmana come elemento prevalente nella collettività ma non allora ancora come elemento ideologico così pronunciato quanto è oggi questa è una distinzione che dobbiamo mantenere perché ci aiuta a capire le differenze tra ieri e oggi e dell'oggi nei confronti del passato altrimenti tutto sembra come dire un continuum quando così non è la storia i dirigenti del mondo arabo a un certo punto a Khartoum in Sudan pronunciano quella che diventa la dottrina che era già praticata ma che a quel punto viene formalizzata e viene poi anche esportata nei luoghi di rappresentanza collettiva a partire dall'ONU i tre no no al riconoscimento di Israele a prescindere da qualsiasi contesto da qualsiasi elemento da qualsiasi fattore no a negoziati con Israele no alla pace con Israele l'entità sionista non è una cosa che viene creata in campo palestinese viene creata in campo arabo è la dottrina del mondo arabo che viene poi traslata in altri ambiti in altri contesti perché come vi dico sempre le stagioni politico-culturali cambiano nelle corse del tempo cosa vogliono dire questi tre no non sono solo tre no politici sono tre no ideologici vogliono dire uno Israele non esiste esiste l'entità sionista Israele virgola il cancro è un cancro è un cancro che si fa si toglie e certo con i bisturi abbiamo perso vent'anni ma insomma la rivalsa la si eserciterà in qualche modo ma vuol dire anche un'altra cosa popolo arabo noi dovremmo dire popoli arabi i vostri problemi dipendono dall'esistenza del cancro sionista questa è un'ideologia rilevante con i fratelli musulmani senza altro ma per un'antica dottrina che fra l'altro si avvale anche di un antigiudaismo loro proprio ma questo diventa la dottrina che è presente in buona parte degli stati arabi il regno di Giordania non sarà così ma per molti anni non potrà dire quello che va pensando cioè che si deve arrivare a un accordo di pace mi capite il regno di Giordania poi è una storia a sé stante anglicizzata è anglofono le classi dirigenti a scemiti sono sempre in difficoltà la presenza della componente paesinese alla fine degli anni santa qualcuno di voi ricorderà settembre nero è una cosa clamorosa cioè sta per far cadere Amman eccetera 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 qualcuno dice qualcuno dice Amman si avvalse anche del know-how israeliano per rimanere in piedi anche la classi dirigenti ma queste sono come dire notarelle a tergo a latere in buona sostanza ma nel discorso generale il rifiuto di Israele è dottrina ufficiale prendetene prendetene cognizione nella misura in cui questo crea uno spartiacco insuperabile preesisteva si preesisteva a muon conto era dire beh c'è stato l'evento del 48 non ce l'abbiamo fatta i colonialisti sono qua sotto vendite spogli si chiamano sionisti eccetera altro discorso dire no questo è un cancro che va estirpato e i tre no sono come dire funzionali a questo tipo di impostazione ha un forte impatto sul piano culturale collettivo prego la prevalenza dei paesi della costa prevalenza non tutti la costa magrebina e quelli che erano legati alla lega araba in buona sostanza che era stata istituita nel 45 dagli inglesi e poi per arrivare fino alla penisola saudita eccetera se vuole le trova anche su un motore di ricerca i partecipanti all'incontro del settembre del 67 no no ci muoviamo su coordinate un po' diverse rispetto a quella dimensione geopolitica parliamo anche di classi dirigenti diverse da quelle che poi possono essere subentrate in buona sostanza cioè ricollochiamoci rispetto a quegli anni lì questo è fondamentale volevo ancora però scusate poi andiamo verso la conclusione allora qualche minuto ce l'ha fatta ancora darmelo perché devo tenere insieme la dimensione come dire regionale generale con la dimensione poi peculiare qui apriamo una serie di questioni su Israele su identità israeliana non su identità ebraica su identità israeliana le cose possono in alcuni casi sovrapporsi ma a volte si distinguono anche molto processi migratori identità nazionale allora io vi faccio vedere è scritto in tedesco ma lo capite benissimo in acoli e verso gli anni sono qua di nata scisse vedete i picchi li vedete? si vedono? si li vedete benissimo ok c'è anche quest'altro sinossi in questa tavola i picchi più interessanti più importanti qui parliamo di una città che è stata fatta prevalentemente ancorché non esclusivamente di immigrati che si sono poi stratificati che si sono poi legati alla componente chiamiamola diventata autoctona quella cosiddetta sabra che è un termine che indica la dimensione e l'identità di chi è nato lì parliamo di un paese che aveva circa 600.000 700.000 elementi alla sua nascita nel 48 e che arriva oggi ad avere grosso modo intorno quasi agli 8 milioni cito memoriam per intenderci parliamo di un paese dove le immigrazioni sono fondamentali due picchi emergono in maniera chiara sapresti a dirmi quali sono? cioè a cosa sono legati? fine anni 80 48 52 53 fine l'Unione Sovietica e prima ancora espulsione dai paesi arabi esilio delle comunità ebraiche in prevalenza non tutte ma buona parte desse dai paesi arabi e questo vuol dire molto perché voi avete come dire senz'altro migrazioni continue poi io qui in successione ve l'ho anche messe qui ho dato anche dei link se volete andarvi a vedere suddivisione per paesi di origine di Israele dal 48 in poi non parliamo del disciuvo precedentemente suddivisione in base all'origine guardate ad esempio l'arrivo dalla Russia e dalla Ucraina un milione e duecento elementi il bureau statistico israeliano li quantificava in questi temeri nel 2013 così come vedete la grande confluenza non solo dai paesi dell'est ma anche dai paesi arabi arabo-musulmani sono i due grandi sceppi poi altri come dire arrivano dalle Americhe sono processi di ricongiunzione familiare in parte sono processi migrazioni anche come dire in alcuni casi chiamiamole ideologicamente motivate in singoli flussi e questa cosa ad esempio è interessante dagli Stati Uniti rispetto alla questione dei territori e alla questione degli insediamenti ebraici nei territori lo riprendiamo la prossima volta però nel complesso voi avete a che fare con una società molto eterogenea dove il problema il problema è quello che tu hai avuto 60 anni di storia che abbiamo raccontato attraverso tutta una serie di elementi di ordine politico culturale ideologico col 48 non è che tutto cambia ma col 48 dall'arrivo l'afflusso di migranti non più motivati dalle ragioni precedenti fuggire dall'antisemitismo quello dell'Europa o venire perché si fa un investimento politico culturale ideologico ma di migranti legati da altre circostanze nell'ultimo caso quello russo che è un fattore fondamentale nella competitività di Israele oggi nel mercato internazionale vuol dire andare via da un sistema politico in sfaldamento che ha tutta una serie di implicazioni che in generale ha una crisi nel mercato del lavoro trasferirsi con le proprie competenze e con le proprie capacità culturali in un paese come Israele e poi in qualche modo giocarsi di una parte se non tutto del proprio destino precedentemente l'arrivo la volta scorsa l'abbiamo affrontato sia pure in maniera veloce inevitabilmente degli ebrei per lo più sefarditi provenienti dai paesi arabi è un impatto molto forte su Israele vuol dire che nel giro di un paio d'anni raddoppi la popolazione in una situazione di forti tensioni di forte ostilità non solo con l'ambiente circostante la guerra 48-49 l'armistizio gli armistizi sottoscritti a partire da Cipro in poi incerti le tensioni l'aggressività crescente e quant'altro ma vuol dire anche confrontarti con soggetti che non sono parte dei tuoi decenni di formazione e di identità politica condivisa quegli ebrei di quelle comunità lì erano parte di un tessuto da quale sono stati espulsi una parte di essi plausibilmente non so quanti non credo molti si sarebbe mossa autonomamente dicendo va bene lo Stato di Israele per me è una opportunità un'altra parte la stragrande maggioranza io credo di poter dire non si sarebbe mossa perché era integrata in quel territorio pur con tutte le difficoltà del caso pur con tutte le difficoltà del caso capite oltretutto parliamo di modelli politici cosa importante ma la classe dirigente israeliana fino agli anni 70 è una classe dirigente ma anche dopo ma dopo è già uno scenario diverso a noi molto più prossimo è una classe dirigente che si è formata su dei modelli occidentali abbiamo descritti seppure sommariamente l'arrivo di quote così cospicue di popolazione che non ha a che fare con un modello politico occidentale volente o nolente depositaria di esperienze politiche comunitarie e sociali che sono quelle di quei paesi arabi che se l'altro si stanno trasformando stanno cambiando perché l'espulsione non è soltanto una risposta alla nascita dell'Israele ma è una trasformazione all'interno delle proprie società un tentativo di omogeneizzazione per creare laddove già non esistono indipendenze nazionali per fortificare i gruppi dirigenti tutta questa cosa qua si riversa su uno stato giovanissimo è come dire in via di costituzione non basta una dichiarazione di dipendenza per dire lo stato è fatto questo ha un peso molto forte nella identità e nella posso usare una parolaccia ontologia cioè nella natura interna di questo paese nei suoi primi trent'anni l'assorbimento dell'esilio sefardita sarà uno degli impegni più corposi proprio in termini di soldoni per le classi dirigenti israeliane comporterà anche delle differenziari non irrilevanti sul piano culturale la componente sefardita negli anni sessanta una parte d'essa esprimerà il suo disagio e frequentemente anche la sua alterità rispetto a un modello politico nel quale non si riconosceva e di cui denunciava frequentemente un atteggiamento che essi reputavano essere di natura classista noi al di sotto voi al di sopra vi dico questa cosa qua poiché parliamo di sistemi democratici dove appunto le dinamiche di diseguaglianze sono pronunciate la democrazia non vuol dire assenza di diseguaglianze vuol dire ve lo dico sempre lo ripeterò sempre varietà sociale e quindi vi dico queste cose qua quindi varietà ma anche conflittualità sociale perché poi quando la prossima volta vedremo il ribaltamento degli anni settanta l'elemento come dire di contrapposizione a tratti quasi anche di ribassa di quella componente della società israeliana che si sentiva subordinata nei confronti dei figli dei kibbutz e i figli dell'impresa azionista e il mondo schienazita sarà un elemento molto forte fatto significativo ve lo dico fin da subito alcuni voi già lo sanno altri no e che a guidare questa riscossa saranno gli esponenti stessi di quel mondo schienazita che viene messo in discussione Menachem Begin capo dell'Ikud il partito che nasce su decenni di un partito precedente che si chiamava Erut Libertà e il partito liberale che si uniscono è un ebreo di origine polacca non è un ebreo di origine arabo sefardita alabofono sefardita una cosa non da poco perché come dire cambierà tante cose sì c'è un 68 israeliano ad esempio che è interessante ci sono un fenomeno non troppo distinto per certi aspetti non so se qualcuno di voi dei Black Panthers cioè della rivalsa proprio militante sono questi gruppi di giovani sefarditi sono delle seconde generazioni che si sentono a contempo parte del tessuto ma anche disadattati tra virgolette cioè non riconosciuti che avviano una sorta di lotta , di classe sotto come dire l'espoio di una lotta politica buona parte di queste cose qua verranno reintegrate o si perderanno nel corso del tempo ma nelle periferie urbane israeliane avranno un impatto forte la forza dell'IQUD quando si costituirà nel 72 unendo il vecchio partito a schienazite prevalenza schienazite e il partito liberale su posizioni come dire antistataliste diremmo noi oggi contro lo statalismo dei laboristi sarà quello di capire che lì sta il serbatoio elettorale sul quale pescare il proprio consenso per contrapporsi a quella che veniva vista ancora come un'alleanza d'acciaio quella dei laboristi in quanto tali precorro alcuni temi ok li precorro però sono cose come dire importanti i fini di discorso che stiamo facendo un'ultima cosa ce la fate ancora pochi attimi poi vi congedo qui avete e riceverete poi le diapositive vedete entrosionista eccetera poi magari ci torniamo un attimo su queste cose qui una questione che mi premeva mettere in rilievo l'esercito della sua funzione sociale che è una questione rilevante Israele è uno stato militarizzato no Israele è uno stato dove ci sono militari che sono parte del mondo civile si può dissentire si dissenta ma è così bisogna entrare nello specifico di questa affermazione per capirci abbiamo visto il percorso sia pure in maniera molto sommaria della ganà e dell'autodifesa la guerra del 48 inizio 49 è una guerra con molti episodi cruenti con un rilevante numero di morti ma in proporzione rispetto a tante altre guerre in corso anche in quegli anni lì non dico insignificante ma è tutto secondaria sul versante ebraico sono 6.000 i morti della guerra dell'indipendenza vuol dire un centesimo della popolazione che non è poco in termini proporzionali vi faccio presente sul versante arabo coloro che fuoriescono che fuggono o comunque che abbandonano per i più svariati motivi i loro luoghi di origine sono a seconda di come si calcoli tra i 500.000 e gli 800-900.000 a seconda di come si calcoli la componente arabo-palestinese che avrebbe poi fatto parte della nuova diaspora e dei campi palestinesi e così via ok vi faccio presente che in quegli stessi tempi in quegli stessi mesi c'è il conflitto dal quale nasce l'odierno Pakistan e lì abbiamo circa 20 milioni di profughi dall'una e dall'altra parte e circa 2 milioni di morti cosa sto dicendo? Che una cosa copre l'altra? No sto dicendo che ci sono questioni di proporzioni per intenderci fermo restando che India e Pakistan non hanno ancora cessato le ostilità ve lo vorrei ricordare anche se magari sono cose più formali però intanto si cannoneggiano ok finiamo solo questa cosa qua allora su cosa fai la cittadinanza se hai soggetti così diversi tu hai gli ebrei palestinesi latino-sionisti attivariamente articolati in una città composita ormai che non è solo più la società del pioniere ma è la società anche del borghese che sta in città e così via i suoi figli su cosa li tiene insieme i figli o comunque a quei soggetti che sono sopravvissuti spesso sono i più giovani sono sopravvissuti i campi di concentramento che si riversano su Israele anzi su la palestina mandataria prima e su Israele poi tra il 45 e il 48 e il 49 e dall'altro lato gli ebrei sefarditi dov'è che costruisci una cittadinanza punto uno punto due Israele è stato militare allora da questo punto di vista vuol dire Israele che passa tutto attraverso una classe dirigente militarizzata ma in realtà se voi guardate i meccanismi di costruzione del rapporto tra dimensioni civili dimensioni militari in Israele vedrete che il pensiero è da un lato quello che esprimevo prima di un Ben Gurion e non solo di lui le classi dirigenti laboriste che dicono no all'esercito di popolo dall'altro lato no all'esercito professionale non è solo una questione di quantità noi non possiamo concederci il lusso di un esercito professionale che rischia di essere un soggetto se stante dentro una comunità politica fragile che deve invece essere capace di rispondere alle minacce ma non avere dei soggetti che su un modello come potremmo dire egiziano o di altro genere si muovono poi autonomamente facendo lo Stato nello Stato è un rischio ad esempio la militarizzazione di una parte sia pur minoritaria del mondo sionista a partire proprio dalla componente più radicalizzata il Palmac per dire Palmac erano come dire le truppe dell'elite preparate addestrate in parte in parte dagli inglesi autodestrate quelle che insomma facevano nel 46 47 48 le incursioni nei confronti della controparte araba delle controparte al plurale e beh che pensano sono fortemente motivati ideologicamente motivati non sono solo militari ma sono militanti e pensano in termini rivoluzionali vengono sciolti cioè vengono ripartiti all'interno delle unità che si vanno militare che si vanno costituendo l'esercito deve basarsi su coscrizione di leva voi direte mamma mia che roba ma vi faccio presente che un elemento un attributo degli stati democratici è proprio la coscrizione di leva far sì che i militari non siano un corpo separato su riservisti riservisti cosa vuol dire che tu non è che dai per un mese per un anno per dieci anni il tuo contributo poi saluti e te ne vai no tu torni ma così tornando così tornando in qualche modo condizioni anche quelli che non sono mai andati via che sono la terza parte cioè i professionali che non vengono scelti attraverso le accademie militari ma che vengono scelti tra la truppa e vengono poi addestratti per svolgere la funzione di militare nel corso del tempo l'esercito deve essere costantemente ibridato dalla società civile inoltre le competenze le cognizioni che si maturano nell'esercito devono essere fruite costantemente all'interno della società civile non sono cognizioni solo di dottrina militare come avviene con i nostri militari professionali professionisti ma devono essere cognizioni che possono essere utilizzate dentro il tessuto sociale pensate ad esempio allo sviluppo negli ultimi 30-40 anni del comparto dell'informatica per dire che sta a cavallo tra civile e militare questo è un dato strategico che peserà poi molto in anni a noi più prossimi ultimissima questione i militari soprattutto quelli di carriera quelli che vanno superano il grado di colonnello sono una grossa risorsa però li si manda in pensione presto e poi li si ricicla nel tessuto civile non è un caso se non pochi militari siano diventati leader politici di rilievo nomi vi sono noti da Issa Krabin Ariel Sharon Heud Barak e quant'altro tenete conto che in Israele fino a non molto tempo fa oggi forse potremmo aprire anche una discussione di essere stati come dire attenti presenti plausibilmente o possibilmente vincenti sui campi di battaglia era un elemento di rimenti nell'autolegittimazione come politico però attenzione finiamo qua il discorso perché se no diventa veramente molto lungo il militare non deve essere sganciato dalla dimensione civile se no il militare si mangia prima o poi la dimensione civile in una situazione di forte incertezza dove l'elemento della sicurezza è messo costantemente in discussione non possiamo concederci il lusso di creare un corpo che potrebbe separarsi dalla dimensione civile ne andrebbe della dimensione tra virgolette di democrazia plurale e su questo si articola uno degli assi non l'unico altri ne vedremo nel discorso dell'identità israeliana nel passato dal 48 agli anni 70 e anche nel presente pur con tutte le differenze del caso mi fermo qui perché due ore sono state fatte e ci risentiamo ci rivediamo fra 15 giorni grazie a tutti